Quindi non sto negando l'esistenza di Gesù, sia ben chiaro, però io vi dico sono tra quelli che pensano che sia esistito ma se voi mi chiedete dacci le prove io non sono in grado di darvele, quindi penso che sia esistito, sia ben chiaro, perché prove storiche certe non ce ne sono.